...sport sul ring di stazione Pirra, un grande evento del sesto, grande evento Fights & Fight, un format vincente da parte del Team Colombese Promotion e della Red & White Eternal City. Prossimo meso a noi, ai limiti dei 84 kg. La vergogna è quella degli 84 kg, chiamano sulla renga, alla Colclu, 29 incontri per lui, 25 vittorie e 4 sconfitte, già campione di Grecia, direttanti in disciplina, Devon Rooms, per il Team Valakis, da Rho di Grecia, Vagelis Salsis! Eccolo qui, the next contender, Vagelis Salsis, Vagelis Salsis! Team Valakis, 29 match per lui, 25 vittorie e 4 sconfitte, campione greco in carica. Contro di lui, Allermo Rosso, 21 incontri disputati, 18 vittorie per lui, 11 delle quali per K.O. e 3 sconfitte per il Team Roma 4 da Roma, Italia, Riccardo Ramadori! Riccardo Ramadori! Roma 5 Club, anche qui un gran bel atleta, grande esperienza, 21 match al suo attivo, 18 vittorie, e 11 addirittura per K.O., quindi assisteremo a un match veramente, veramente tosto, con due atleti tosti. vedo all'angolo rosso, all'angolo di Ramadori, il maestro Perrioli. Quindi con questo match stiamo facendo il Giro di Bois, rimangono ancora 4 match dopo questo, sperando che la mia voce mi porti avanti regga, che oggi è veramente stato faticoso, mi dispiace per questa tosse, questo mio non esprimermi al meglio, amici a casa. Però sono i cosiddetti malanni di stagione. il signor Aveni è tutto pronto, si parte, prima ripresa, K1 Rules, amici a casa, subito, Ramadori, si fa sentire, timbra il cartellino, ci sono io sul ringer. calcio frontale da parte del greco, bello, stupendo, 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 stupendo. Mi sembra che ho alzato un po' troppo la voce, Alfredo, Alberto Frati, gli ho messo paura. stupendo, 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 un colpo secco, bellissimo, esecuzione perfetta, calcio frontale, diretto e gancio, and that's it, it's lights out baby, lights out. mi dispiace tantissimo per Ramadori, spero che tutto vada bene, ci sono i medici e ovviamente tutto lo staff sanitario per rassicurare che tutto è a posto. bellissima esecuzione da parte del greco Sorsis, che hanno spento le luci a Ramadori, lights out, lights out. si sta rialzando, un po' troppo adesso per me, per rialzarsi, dovrebbe aspettare un altro po'. Nel cadere, giustamente, sicuramente si è fatto male a un ginocchio, stanno controllando i medici. è poi piombato il silenzio qui al stazione birra di Roma, è iniziato proprio a pochi secondi dalla prima ripresa tra Ramadori e Sorsis e ha fatto una tecnica ben precisa, proprio da manuale Sorsis, calcio frontale portando il suo avversario verso l'angolo, diretto destro, gancio sinistro, and that's it, lights out. vediamo se tutto va bene per Ramadori, speriamo di sì, dispiace tantissimo per lui. La notizia più importante è quella che, per tanto Ramadori, ovviamente in buone condizioni, esatto, le giuste parole di Valerio Lamanna. Attendiamo, ovviamente, il verdetto ufficiale. Ha trovato, ha trovato un osso duro Ramadori oggi qui alla stazione birra ed è venuto anche da lontano, dalla Grecia, da Rodi. Ramadori ha un curriculum niente male, 21 match a suo attivo, 18 vittorie, di cui 11 per KO. e devo dire che oggi, purtroppo, per lui non è andato bene, non è stata una serata felice. Tutti si aspettavano un match bello, pesante, da due che hanno la dinamite nelle mani. e nessuno si aspettava, ovviamente, una chiusura della prima ripresa in pochissimi secondi. non penso che sia andato verso i 30, oltre i 30 secondi. l'importante è che Ramadori si è rialzato, che sta bene, adesso dovrà stare fermo per un po'. Siamo al verdetto, vince questo incontro per KO a 31 secondi della prima ripresa. Vincente per KO, Vagelis Sorsis. Dispiace per Ramadori, Riccardo, gran bel atleta, grande ragazzo, purtroppo oggi non è stata una buona domenica. Voto di rito e di ricordo. Ovviamente voto di rito per il team vincitore di questo incontro. Ringraziamo ancora una volta gli sponsor di questa serata. E quindi grazie al centro medico, con il proletario specialistico Tiziano, Eresi Thailand, l'ente nazionale del turismo.